Cosa vuol dire FNAF? Significa che Freddy non abbandona mai gli amici. Oh ma che diamine! Comunque cosa sono cinque notti? Aspetta, se Bonnie era con voi ragazzi, allora con chi stavo parlando nel corridoio? Ma che diamine amico! Questo è ciò che Springtrap voleva, metterci uno contro l'altro! Golden Freddy, basta! Sta impazzendo! Foxy, tu vai a destra! Bonnie, tu vai a sinistra! Chica, tu sarai solo Chica. Noi siamo FNAF! Ragazzi, quello è Freddy Fazbear! Ok, va bene, vieni qui Springtrap! What, dinghii? Embarassava asciutto! Perché voglio si questo! A rè, a rè a rè.. Oh, 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 oh.